Cari amici di Meteo Giulia, ci sarà, andiamo subito a vedere cosa accadrà dal punto di vista meteo sulla penisola italiana, sul bel paese, sarà una giornata praticamente estiva. Estiva perché le temperature saranno ancora molto molto miti durante il giorno, ma estiva anche perché l'instabilità che ci sarà, sarà quasi dappertutto di stampo estivo. Quindi occhio al pomeriggio e alla prima serata sul nord-est a partire dai rilievi, dall'appennino emiliano, in parte romagnolo, dai rilievi alpini e prealpini e poi in serata anche con sconfinamenti dell'instabilità dei rovesci di pioggia su alcune aree di pienura, parlo sempre del nord-est. Situazione più tranquilla invece sul nord-ovest, ancora instabilità di stampo estivo lungo la dorsale appenninica, centrale ma anche meridionale, sin verso le zone interne della Campania, la Calabria, sui rilievi qualche nucleo instabile possibile e sulla parte più orientale della Sicilia. Quindi sulla Sicilia non ci sarà dell'instabilità dappertutto, ma sui settori più orientali, sulla parte occidentale, situazione piuttosto tranquilla. È tutto, noi ci riaggiorniamo presto, arrivederci!